Benvenuti nel mondo degli orologi Vutileinen. Cari Vutileinen è uno dei nomi più importanti dell'orologeria di lusso, ed il suo marchio omonimo è sinonimo di orologi meccanici di altissima qualità. Fondata nel 2002, l'azienda Vutileinen si è rapidamente guadagnata un posto tra i marchi di orologi di lusso più prestigiosi al mondo. Gli orologi Vutileinen sono prodotti in serie molto limitate, spesso solo pochi esemplari all'anno. Ogni orologio Vutileinen è realizzato a mano dai migliori artigiani dell'azienda, utilizzando solo i materiali più pregiati e le tecniche più avanzate. Ciò garantisce che ogni orologio Vutileinen sia di altissima qualità e abbia prestazioni eccezionali. I movimenti degli orologi Vutileinen sono prodotti internamente, il che significa che ogni aspetto dell'orologio, dal design alla produzione e alla finitura, è controllato direttamente dall'azienda. Questo approccio garantisce che ogni orologio Vutileinen sia unico e di altissima qualità e che soddisfi le esigenze di chi cerca un orologio meccanico di lusso. I modelli di orologi Vutileinen sono disponibili in diverse collezioni, ognuna delle quali ha il proprio stile e le proprie caratteristiche distintive. Ad esempio, la collezione Time Piece è caratterizzata da orologi solo tempo, dal design elegante e sofisticato, e presenta sul quadrante dei disegni artistici di grande qualità. Mentre la collezione GMT presenta la funzione di visualizzazione del doppio fuso orario, e la maggior parte delle volte la fase lunare. Ma una delle collezioni più pregiate è la Tourbillon, che presenta sul quadrante un tourbillon unico che rende l'orologio preciso ed esteticamente incredibile. Inoltre, Vutileinen offre anche la possibilità di personalizzare gli orologi, aggiungendo dettagli speciali o scegliendo materiali specifici per la cassa e il cinturino. Ciò rende ogni orologio Vutileinen unico e personalizzato per il suo proprietario. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli orologi Vutileinen, spiccano la precisione del movimento, la resistenza all'acqua e la durata della carica. Inoltre, molti modelli di orologi Vutileinen presentano funzioni aggiuntive come il cronografo o il calendario perpetuo.